Riferisco oggi qui alla Camera in vista dell'imminente scadenza dello stato d'emergenza che in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 fu deliberato in Consiglio dei Ministri, ricorderete il 31 gennaio di quest'anno e che quindi, essendo previsto per la durata di sei mesi, verrebbe a scadere alla fine di questo mese. Pur in assenza di un vincolo normativo ritengo ovviamente doveroso condividere con il Parlamento questa decisione. Ieri mattina, come è noto, si è tenuto un Consiglio dei Ministri nel corso del quale abbiamo esaminato il tema dell'eventuale proroga dello stato d'emergenza valutando in tutti i dettagli le relative implicazioni. Ricordo che la dichiarazione dello stato d'emergenza, e questa cosa purtroppo anche dal dibattito che ieri c'è stato al Senato, da una parte almeno degli interventi, sembra ancora sfuggire. Ricordo che lo stato d'emergenza è previsto dal Codice di Protezione Civile, quindi una fonte di rango primario di carattere generale, peraltro la cui legittimità è stata positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale. La dichiarazione dello stato d'emergenza, come da previsione del Codice di Protezione Civile, costituisce il presupposto per l'attivazione di una serie di poteri e di facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali in atto e in particolare per fare intervenire il sistema della protezione civile. Tra questi poteri, infatti, quello certamente più intenso è il potere di ordinanza, che è uno strumento fondamentale di cui, come sapete, dispone la protezione civile proprio per realizzare interventi che, in assenza di quella specifica precondizione, non potrebbero essere attuati, quantomeno non attuati, con analoga speditezza. Quel potere, infatti, consente di emanare norme indero da ogni disposizione vigente, nei limiti, ovviamente, con le modalità indicati, nella deliberazione dello stato d'emergenza, nel rispetto, sempre e comunque, dei principi generali dell'ordinamento giuridico delle norme dell'Unione Europea. La decisione che l'esecutivo intende assumere, quindi, trova la sua fonte di legittimazione specifica nell'articolo 24 del decreto legislativo numero 1 del 2018, appunto codice della protezione civile, che consente, con delibera del Consiglio dei Ministri, anche la proroga dello stato d'emergenza, fino a una durata massima di 12 mesi. La proroga, dunque, cerchiamo di ricondurre e di chiarire questo primo aspetto, è una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge e attivabile ogni qualvolta, anche a distanza di tempo rispetto al verificarsi dell'evento, si renda necessaria la prosecuzione degli interventi. Questa esigenza, peraltro, si verifica e si è verificata, lo dico storicamente, quasi statisticamente, quasi sempre. Come confermano, infatti, molteplici precedenti, lo stato d'emergenza viene ordinariamente prorogato dal Governo, ben oltre il termine inizialmente fissato. Forse ci sfugge, ma dal 2014 ad oggi sono state adottate 154 dichiarazioni di stato d'emergenza, 154. Ben 84 sono state le delibere di proroga. E d'altra parte, se considerate, se guardiamo all'interesse della nostra comunità e mettiamo da parte e scacciamo via la tentazione di far polemica, sarebbe incongruo sospendere bruscamente l'efficacia delle misure adottate se non quando si siano completamente esauriti i procedimenti avviati e la situazione, in base a criteri di ragionevolezza, proporzionalità, sia riconducibile a un tollerabile grado di normalità. E vedete, se questo è vero, perché l'obiezione potrebbe essere, ma negli altri casi si è trattato di alluvioni, terremoti, ma anzi è un argomento che gioca in senso contrario e rafforza la necessità di prorogare adesso lo stato d'emergenza, perché in quel caso si tratta di eventi che si esauriscono una volta per tutte, appunto un alluvione, un terremoto. In questo caso invece è un evento, la pandemia, che non si è risolto in un fatto puntuale, ma ha assunto i tratti di un processo in continua e anche imprevedibile evoluzione e che purtroppo ancora oggi non ha completamente esaurito i suoi effetti, per quanto, e tendo a sottolinearlo, il Governo ne è pienamente edotto, come tutta la comunità nazionale, attualmente sia contenuta nella sua portata e territorialmente circoscritta. Se decidessimo diversamente, se ci assumessimo la responsabilità di non prorogare lo stato d'emergenza dichiarato il 31 gennaio scorso, dobbiamo essere consapevoli della portata pratica della nostra decisione. Cesserebbero di avere effetto le ordinanze, ne sono state adottate 38, di cui 4 ancora attualmente al vaglio della Ragioneria Generale dello Stato, così come cesserebbero di avere effetti tutti i conseguenti provvedimenti attuativi. Faccio qualche esempio. Perderebbero efficacia dall'oggi al domani misure come l'allestimento e la gestione delle strutture temporanee per l'assistenza alle persone risultate positive. L'impiego del volontariato di protezione civile, quindi dire no alla proroga, significa assumersi la responsabilità di dire no a tutti questi provvedimenti anche attuativi. e a queste misure. Reclutamento e gestione di task force di personale sanitario a supporto delle strutture regionali e degli istituti penitenziari. La prosecuzione dell'attività relativa fin anche al numero verde, 1.500 per l'assistenza alla popolazione. Il pagamento dilazionato delle pensioni, presso gli uffici postali per evitare assembramenti. L'attribuzione all'Istituto Superiore di Sanità della Sorveglianza Epidemiologica, l'attivazione del sistema CROSS, ne abbiamo fatto grande uso, ne stiamo facendo grande uso, è la centrale operativa remota di soccorso sanitario. In caso di mancanza di posti letto nei reparti di terapia intensiva in una regione, può esplodere da un momento o all'altro un cluster, un focolaio, prevede il trasferimento dei pazienti in ospedali situati in altre regioni. Potete parlare con i presidenti delle regioni, potete parlare con i rappresentanti e gli enti locali, e potranno confermare queste e tante altre misure. Tra le misure che perderebbero efficacia, abbiamo anche quella che consente di noleggiare navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti. E non sfugge a nessuno quanto sia attuale il ricorso... Colleghi, colleghi... Il ricorso a questo strumento che concorre insieme a... Andiamo avanti... Apprestati dall'autorità... Velotti... A un ordinario... Prego... Non sfugge, dicevo a nessuno, quanto sia attuale il ricorso a questo strumento che concorre insieme agli altri. Apprestati dalle autorità un ordinato svolgimento della quarantena a tutela della sanità pubblica. E proprio in queste ore gli uffici, le strutture dei ministeri competenti sono intensamente impegnati per far fronte a una situazione così complessa che dobbiamo tutti affrontare con risoluzione, efficacia, tempestività. Siamo quindi veramente convinti di voler interrompere queste attività. Ma non è solo questo, vedete. Se lo stato di emergenza non fosse prorogato, cesserebbe la funzione di coordinamento attribuita al Capo della Protezione Civile. Così come decadrebbero i poteri straordinari attribuiti ai soggetti attuatori designati per l'espletamento di specifici compiti. Per lo più sono i Presidenti delle Regioni, il Segretario Generale del Ministero della Salute e i soggetti attuatori responsabili della gestione della sorveglianza sanitaria dei migranti. Verrebbe a cessare le proprie funzioni anche il Comitato Tecnico Scientifico che in questi mesi ha svolto un ruolo decisivo nel sostenere, motivate e con evidenze scientifiche sempre che si dia importanza alle evidenze scientifiche le decisioni del Governo sia nella fase della progressiva limitazione delle reazioni di comunità e della sospensione delle attività economiche e commerciali sia nella delicata fase della loro graduale riapertura del progressivo ritorno alla normalità. A questo occorre aggiungere che al 31 luglio data di cessazione dello stato di emergenza sono correlati numerosi termini che non sto qui a indicare sono molteplici contenuti in provvedimenti normativi di rango primario ma anche secondario adottati durante lo stato di emergenza. Infatti è noto che molte disposizioni assumono come riferimento temporale della loro efficacia la cessazione dello stato di emergenza mentre altre prevedono termini di efficacia a date diverse ma comunque determinate per relazione alla data di scadenza dello stato emergenziale. faccio un solo esempio cito l'articolo 122 del decreto legge 18 del 2020 quella norma nell'istituire il commissario straordinario dispone al suo quarto comma che le sue funzioni cessano alla scadenza dello stato di emergenza o delle relative eventuali proroghe. Quindi la mancata proroga dello stato di emergenza farebbe cessare dell'operatività del commissario il cui lavoro accanto a quello della protezione civile si sta rivelando si è rivelato ma si sta rivelando fondamentale. La struttura commissariale infatti sta continuando a svolgere i suoi compiti con particolare riguardo alla produzione e alla distribuzione di beni strumentali utili a contenere e a contrastare l'emergenza si sta rivelando fondamentale per il completamento dell'opera di rafforzamento delle strutture ospedaliere con specifico riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva nonché anche si sta rivelando fondamentale per il rafforzamento delle filiere produttive e dei beni necessari per il contrasto all'emergenza. Sta inoltre ponendo in essere un'importante attività di sostegno al Ministro della Giustizia per assicurare il regolare svolgimento delle attività processuali rese difficili dalle esigenze di distanziamento e soprattutto in questa fase la struttura commissariale sta procedendo all'acquisizione e alla distribuzione delle apparecchiature dei dispositivi di protezione individuale nonché di ogni altro bene strumentale ivi compresi gli arredi per garantire ai nostri alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi l'ordinato avvio è in tutta sicurezza nella massima sicurezza dell'anno scolastico il ritorno a scuola a settembre più di 10 milioni di persone infatti studenti docenti personale dovranno rientrare a scuola e dobbiamo garantire loro condizioni di massima sicurezza è obiettivo da tutti riconosciuto come prioritario che però questo richiede un elevato sforzo in termini di organizzazione di rapido reperimento di spazi e di strumentazioni adeguate parimenti correlate alla data del 31 luglio sono anche le misure previste dal decreto legge numero 33 del 2020 il cosiddetto decreto legge riaperture ai sensi dell'articolo 3 del decreto infatti le misure si applicano dal 18 maggio al 31 luglio e tra le misure in questione figurano specifiche prescrizioni comportamentali che sono risultate decisive per il contenimento del contagio ad esempio il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico come pure l'obbligo di assicurare il mantenimento della distanza di almeno un metro nelle riunioni benché la proroga dello stato di emergenza non sia condizione di legittimità per estendere temporalmente l'efficacia delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza e quindi tuttavia è evidente che in concreto i presupposti di carattere sostanziale che giustificano la proroga delle disposizioni contenute nei decreti legge numero 19 e 33 del 2020 si radicano lo ritiene anche la migliore dottrina costituzionalistica proprio nella dichiarazione dello stato di emergenza rinnovare quelle misure senza prorogare lo stato di emergenza comprendete bene che esporrebbe la complessiva azione dell'amministrazione a rilievi in termini di coerenza razionalità delle scelte adottate la proroga dunque se ci collochiamo in quest'ottica se teniamo via le polemiche le implicazioni ideologiche e guardiamo alla sostanza dei fatti è una scelta inevitabile per certi aspetti obbligata fondata su valutazioni squisitamente direi meramente tecniche voglio chiarire perché ieri nel dibattito poi c'è stato qualche qualche frentendimento non sto dicendo ovviamente che è preclusa una valutazione politica anzi siete chiamati a farla qui in questa sede voglio dire che il governo sta operando questa valutazione della necessità della proroga sulla base di stanze di mere stanze organizzative operative non certo perché si vuole fare un uso strumentale come qualcuno si è spinto ad affermare perché ad esempio si vuole assumere un atteggiamento liberticida si vuole reprimere il dissenso si vuole tenere la popolazione in uno stato di soggezione sono affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza nella realtà noi se non si condivide la necessità di prorogare lo stato di emergenza lo si dica chiaramente in modo franco ma non si attribuisca al governo e non si faccia confusione con la popolazione perché oggi leggendo alcune pagine alcune risposte sui social c'è qualcuno che ci sta seguendo qualche cittadino che è stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi ritornare al lockdown quindi significhi misure più restrittive dal primo agosto non è affatto così per quanto attiene più specificamente ai profili di carattere sanitario segnalo che il comitato tecnico scientifico interpellato doverosamente dal ministro della salute in merito all'opportunità di conservare le misure contenitive precauzionali adottate con la normativa emergenziale ha reso in data 24 luglio un parere che contiene alcune considerazioni a mio avviso risolutive circa la necessità della proroga dello stato di emergenza il comitato in primo luogo rileva che sebbene la curva dei contagi così come l'impatto sul sistema nazionale si siano significamente ridotti rispetto alla fase più acuta dell'infezione questo è un dato positivo lo possiamo rimarcare lo dobbiamo rimarcare perché ci rinfranca ci induce a ripristinare quanto più possibile le pregresse condizioni di vita economica sociale culturale però i numeri registrati sottolinea anche il comitato tecnico scientifico documentano che il virus continua a circolare nel paese dando luogo in varie aree regionali a focolai che al momento sono stati prontamente identificati e circoscritti il comitato segnala altresì che la situazione internazionale resta preoccupante dal momento che si registrano in varie aree del mondo situazioni di contagio che non accennano a migliorare e anche le situazioni di paesi a noi vicini o addirittura confinanti pensiamo alla Francia ai paesi balcanici alla Spagna impone un atteggiamento di attenta vigilanza per evitare che la ripresa dei contagi interessi anche l'Italia quindi quando facciamo le valutazioni non guardiamo solo a noi ma anche agli altri paesi e lo stesso il comitato a sottolineare infine il suo parere quanto ricordato poc'anzi dopo la pausa estiva nel mese di settembre dovrà essere garantita la ripresa dell'attività didattica frontale nelle scuole che interesserà complessivamente più di 10 milioni di persone le considerazioni espresse dal comitato rafforzano dunque con argomentazioni basate anche su evidenze scientifiche le ragioni a fondamento della scelta di prorogare lo stato d'emergenza e gli effetti di chiara utilità che è suscettibile questa scelta di produrre e lo ribadisco a beneficio anche della massima trasparenza con questa decisione il governo persegue l'obiettivo di garantire continuità operativa alle strutture agli organismi che stanno operando per il graduale ritorno alla normalità che continuano a svolgere più diversi livelli nei più diversi ambiti attività di assistenza di sostegno in favore di ancora quanti subiscono gli effetti diretti o indiretti che siano di una pandemia che non si è ancora esaurita quindi con questa decisione consentiamo di prorogare gli effetti di misure necessarie la cui efficacia sarebbe compromessa in caso di cessazione dello stato di emergenza con questa decisione infine in base ai principi che ci hanno sempre guidato sin qui perché questo governo è stato sempre coerente rispetto a un metodo che ha seguito principio di precauzione massima trasparenza con tutti i cittadini e criteri nell'adduzione delle misure della proporzionalità e dell'adeguatezza ecco con questa decisione sulla base sempre dei criteri in cui ci siamo sempre ispirati ci predisponiamo a mantenere un cauto livello di guardia non intendiamo affatto lo ripeto introdurre misure restrittive tutt'altro tutt'altro potendo così intervenire mantenendo queste misure organizzative funzionali operative con speditezza ovomai dovessimo registrare un peggioramento della situazione quindi non vi è alcuna intenzione di drammatizzare di alimentare paure ingiustificate nella popolazione e non è neppure questa scelta riconducibile alla volontà di voler creare una ingiustificata situazione di allarme anzi con la prologa dello stato emergenza continueremo a mantenere in efficienza il complesso di misure iniziative organizzative operative funzionali che rendono il nostro paese più sicuro a beneficio dei cittadini italiani a beneficio dei turisti che volessero visitarlo e lo testimoni anche se mi permettete l'indirizzo che il governo ha voluto imprimere ricordo anche la conferenza del 18 maggio quella che ha dato vita alla cosiddetta lanciato la fase 2 da quel momento è in misura sempre più determinata io e tutti i ministri abbiamo sempre trasmesso segnali di massima fiducia compiendo anche scelte risolute addirittura con un certo anticipo rispetto ai tempi inizialmente prefigurati misure che hanno favorito la ripresa della vita sociale e la via in sicurezza delle attività economiche e commerciali e così continueremo a fare nella scelta di prorogare lo stato di emergenza può ritenersi lesiva della nostra immagine all'estero si è detto anche questo qui richiamo un po' la vostra attenzione qui non è questione che la dichiarazione dello stato di proroga può ledere l'immagine del nostro paese all'estero anzi è vero il contrario l'Italia al quale tutti riconoscono attualmente il merito di aver affrontato molto bene la fase più acuta dell'emergenza è vista come un paese sicuro in grado di affrontare proprio grazie alle misure precauzionali di monitoraggio di prevenzione che abbiamo predisposto e stiamo mantenendo la piena ripresa in sicurezza della vita sociale ed economica e lo dico in tono molto sommesso anche il dibattito parlamentare dovrebbe attenersi a questi profili tecnici giuridici di questa decisione senza un'impropria drammatizzazione del suo significato degli effetti della proroga dello stato d'emergenza perché questa drammatizzazione essa sì potrebbe sarebbe suscettibile di creare un potenziale inocumento all'immagine dell'Italia all'estero e veniamo all'argomentazione più insidiosa alla decisione di prorogare lo stato d'emergenza sono stati attribuiti significati di ogni tipo sino a prefigurare in qualche per carità in qualche caso isolato la volontà di ricorrere a questo strumento a solo scopo di preservare in capo al governo e in particolare al Presidente del Consiglio poteri ex ordine suscettibili di alterare tanto più se esercitati in assenza dei legittimi presupposti l'ordinaria dialettica democratica fin anche il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo è stata fin anche sostenuta la paradossale tesi tesi giuridica secondo cui sarebbe stato più opportuno procedere in tutta questa pandemia anche nella fase più acuta con ordinanza del Ministro della Salute come sapete che c'è l'articolo 32 della legge istitutiva del nostro sistema sanitario nazionale la legge 833 del 1978 ritenendo quindi che il ricorso alle ordinanze del Ministro della Salute fosse più garantista più rispettoso dei presidi democratici rispetto al percorso che hanno eseguito come sapete abbiamo adottato norme di rango primario attraverso lo strumento del decreto legge e conseguentemente poi abbiamo emanato decreti del Presidente del Consiglio che se solo considerate anche il processo di formazione sono assistiti da numerose garanzie ben superiori a quelle che assistono alle ordinanze contingibili e urgenti come le chiama la legge quelle che sono previste dall'articolo 32 citato della legge del 1978 e questo anche sotto il profilo della condivisione delle scelte perché nel caso dei DPCM è previsto il coinvolgimento di tutti i ministri competenti e anche delle regioni come pure l'obbligo che poi è stato introdotto con decreto legge 19 del 2020 di informare preventivamente le camere ecco questa accusa di volere evidentemente prorogare lo stato d'emergenza per giovarsi di poteri extra ordinem è frutto di un evidente equivoco la proroga dello stato d'emergenza non incide sul potere del Presidente del Consiglio dei ministri di emanare decreti lo stato d'emergenza è un presupposto di fatto ma non la fonte di legittimazione formale che si rinviene invece l'ho già detto nei decreti legge quindi nella normativa di rango primario il potere di adottare i DPCM è al momento correlato alla data del 31 luglio termine di cessazione dello stato d'emergenza non in ragione quindi di una formale connessione tra DPCM e stato d'emergenza ma perché questo espressamente prevede la fonte di rango primario legittimante la quale peraltro avrebbe potuto anche disporre diversamente in altre parole qualora il Consiglio dei ministri adottasse la delibera di proroga dello stato d'emergenza non per questo il Presidente del Consiglio sarebbe autorizzato a emanare un DPCM non per questo il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri non deriva dalla dichiarazione dello stato d'emergenza ma si radica nella normativa di rango primario e la dichiarazione dello stato d'emergenza costituisce possiamo convenirne il presupposto di fatto il requisito sostanziale ma non potrebbe in alcun modo legittimare di per sé l'adozione dei DPCM se non fosse affiancata ripeto da una fonte abilitante di rango legislativo dunque per continuare a essere esercitato dopo il 31 luglio quel potere richiederà questo deve essere molto chiaro un ulteriore intervento normativo ovvero un nuovo decreto legge che sarà sottoposto all'esame parlamentare per la sua conversione in legge e con quel decreto ragionevolmente saranno spostati i termini contenuti nei decreti legge numero 19 e 33 coerentemente con il termine poi che verrà prorogato con coincidenza dello stato di emergenza e con successivi DPCM sempre in base ai principi di precauzione adeguatenza e proporzionalità saranno tendenzialmente confermate quelle misure precauzionali minime che stiamo applicando in questo periodo quindi non misure certo più restrittive ma se del caso se del caso confermate quelle minime misure precauzionali che ci stanno consentendo di convivere con il virus nella prospettiva di un pieno benché graduale ritorno alla normalità la mia presenza qui dimostra la massima disponibilità del governo a interloquire con il Parlamento e a tenere conto delle indicazioni che perverranno dalle camere con riferimento alla scelta di prorogare lo stato di emergenza anche se questa scelta è in una deliberazione da rimettere a una deliberazione del Consiglio dei Ministri ieri mattina si è concluso dicevo un Consiglio dei Ministri e abbiamo per quanto non abbiamo adottato nessuna delibera abbiamo convenuto con tutti i Ministri sulla necessità di prorogare lo stato di emergenza e in particolare è emerso l'indirizzo di limitare l'estensione temporale al prossimo mese di ottobre come sapete ieri c'è stata una risoluzione di maggioranza al Senato che propone come data di estensione dello stato di emergenza il 15 ottobre preannuncio che il Governo ovviamente in questo caso nel caso fosse confermata anche qui alla Camera si atterrà a questa indicazione anche temporale ricordo che lo stato di emergenza fu dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso al verificarsi dei primi isolati casi di Covid-19 vi ricordate furono registrati all'interno di un gruppo di turisti cinesi che erano qui a Roma il Consiglio dei Ministri assunse quella decisione dopo che il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva adottato la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per Covid-19 sottolineo quindi il giorno dopo fumo molto tempestivi in questo sottolineo che questa decisione poi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata confermata il primo maggio e quindi mi rivolgo alle forze di maggioranza ma ancora una volta alle forze di opposizione perché insisto sono questioni queste su cui non si deve ragionare per schieramenti precostituiti non si deve cedere a logiche oppositive alla luce delle considerazioni svolte dei dati obiettivi a disposizione occorre essere consapevoli che la cessazione al 31 luglio dello stato di emergenza determinerebbe l'arresto di tutto il sistema di protezione e prevenzione costruito in questi difficili sottolineo difficili mesi nell'interesse della collettività a tutela di beni quali la vita la salute che anche sotto il profilo assiologico sono al vertice della gerarchia dei valori costituzionali in quanto precondizione per il godimento di tutti gli altri diritti si è trattato di scelte non facili oggettivamente scelte molto difficili che hanno comportato tanti sacrifici ma che ci hanno permesso di superare con successo le fasi più acute dell'emergenza sono scelte che il governo ha sempre condiviso con il Parlamento presentandosi davanti alle camere alla vigilia di ogni decisione è il resto fiducioso che anche in questa occasione possa maturare in quest'aula con consapevolezza con piena assunzione di responsabilità una convergente valutazione positiva su questo decisivo passaggio da cui discendono rilevanti conseguenze per i nostri cittadini grazie